Tsunami, l'onda del porto. 26 dicembre 2004. Il sole era già alto nonostante fossero le otto e mezza. Dal balcone della camera al secondo piano dell'hotel Kata Resort a Kata Beach in Thailandia assaporava quell'aria fresca e salmastra che a forate calde e piacevoli proveniva dal mare. Ancora due giorni poi avremmo dovuto lasciare quella piacevole ma provvisoria sistemazione. Con Franca e i ragazzi avevamo lasciato tre giorni prima l'albergo che avevamo prenotato a Kamala Bay. Non era finito, troppo lontani dal mare e poi eravamo gli unici clienti. Con un taxi iniziamo a percorrere l'isola di Phuket scendendo verso Karon Beach. Ci fermavamo in tutti gli hotel con l'aiuto dell'autista a chiedere una stanza grande o al limite due camere contigue. Niente da fare, era alta stagione. Mi venne in mente la descrizione che mi fece Marco prima di partire dell'hotel L'On the Beach a Karon che tra l'altro era di strada. Va lì, è magnifico, è sulla spiaggia a poche centinaia di metri dal mare. Edificio a due piani e ben tenuto era al termine della grande mezzaluna di sabbia fine di Karon sotto un palmetto piacevolmente fresco per via della posizione fronte mare. Nulla da fare, c'era solo una camera e noi eravamo in quattro. Che sfortuna! Provammo a chiedere anche ad un villaggio vacanza a ridosso della spiaggia, nascosto dietro a delle dune con oasi di verde tropicale tra i bungalow. Sarebbe stato comodo da lì raggiungere la spiaggia, ma nulla anche lì, tutto pieno. Vabbè, anche se distante qualche chilometro dal mare, il catresort al momento faceva il caso nostro. A un certo punto tutto il terrazzo e la ringhiera sulla quale ero appoggiato iniziarono a sussultare ed ondeggiare. Durò qualche secondo, ma sufficiente per interrompere quel meraviglioso momento. Un terremoto, pensai, ma nulla attorno era cambiato. Il sole caldo ed il vento continuavano il loro lavoro. Elisa e Fabio, che erano nella stanza a fianco, di corsa vennero a chiedersi se avevamo avvertito il sobbalzare del letto. Allora era successo davvero. Andammo di corsa alla reception dell'hotel per chiedere se avessero avvertito anche loro qualche cosa, cercando di spiegare col mio inglese maccheronico, provocavo l'ilarità dei ragazzi che confermavano l'accaduto. La gentile signorina, elegante nel suo tagliere azzurro, come si conviene a tutte le tailandesi che lavorano negli hotel, candidamente mi chiese «What room? In quale camera?». A stento mi trattenne dal ridere e la normalità intorno a noi mi persuase che nulla di grave fosse successo. Tornammo in camera e cominciammo a programmare la giornata. Chi si va? Si va al mare o gita alle isole P.P. Island? Elisa, che si era portata dei libri, disse che voleva restare in piscina a studiare. Ma chi si porta i libri di scuola e in vacanza? Beh, certo solo lei. Una ragazza così risoluta è sempre pronta a dare il massimo in tutto quello che faceva. Voleva prepararsi al meglio per il prossimo anno di liceo linguistico. Avevamo tempo per girare e di buon grado decidemmo di rimanere in hotel. Ci sistemammo sull'estraio in piscina e ci gustammo la colazione. A un certo punto un addetto della sicurezza dell'hotel, in modo concitato ma risoluto, iniziò a radunare i clienti e ad urlare «Go away! go away! Via via, sta arrivando! Ma cosa? Che succede?» Gli addetti alla sicurezza ci radunarono sul piazzale dell'hotel e incamminandosi verso una collina ci dissero che il terremoto era stato avvertito benissimo in tutta l'Asia e che un'onda gigantesca stava per arrivare verso la costa. Fu lì che cominciamo a conoscere quella parola. Tsunami, che in giapponese significa onda del porto. La salita verso la cima della collina era faticosa, il terreno scivoloso. La foresta tropicale fatta di palme e bambù era così fitta che si procedeva a fatica. Il caldo umido contribuiva ad accentuare ogni sforzo. Giù di in cima lo spettacolo fu immenso. La fatica ricompensata da una magnifica vista sull'oceano di un colore blu intenso che non lasciava presagire nulla di quanto stava accadendo a valle. Per un momento dimenticammo quella disavventura, ma subito fummo riportati alla realtà da un giovane giapponese che al telefono con il fratello ci disse che era avvenuto un devastante terremoto in Indonesia. Il sisma aveva fatto sprofondare per due metri una parte di un'isola, provocando un'enorme onda di tsunami che a breve sarebbe arrivata da noi e che per salvarsi ci saremmo dovuti aggrappare con forza ad una palma. Le ore passavano e bivacchi di turisti raggruppati per nazionalità si erano coalizzati e parlavano tra loro. Io, Franca, Fabio ed Elisa, unici italiani in quella babele di lingue, eravamo con un gruppo di tailandesi che con agilità ci avevano raggiunto. Savadeh Krap, buongiorno in tailandese, è tutto quello che sapevo dire. Uno di loro un tipo minuto ed agile salì su una palma da cocco e riportando a terra due enormi frutti li aprì con un colpo secco di macete offrendoci il prezioso succo. Ringraziai con il loro classico saluto un inchino con le mani giunte sul petto che in base alla differenza di età si dovevano portare verso la fronte se chi ci stava davanti era più anziano. Ma quei tailandesi magri ed asciutti, agili e forti, che avrebbero potuto resistere a lungo nella foresta, non riuscivo a dare un'età. Loro avrebbero trovato le risorse per vivere lì. Noi occidentali non saremmo sopravvissuti un giorno. Decidemmo di scendere e tornare verso casa. Erano già le quattro del pomeriggio e anche altri gruppi di persone cominciavano a lasciare quell'inconsueto bivacco. Giunti in hotel, il personale ci accolse con una bevanda rinfrescante ed un massaggio ai piedi, quasi scusandosi per il disagio subito. Tutto intorno a noi era normale. Nulla mostrava quanto era successo. Decisi quindi di andare in spiaggia, dove solitamente ci si stabiliva. Franca ed i ragazzi, concordi, mi seguirono. L'immagine che si presentò ai nostri occhi era surreale. La spiaggia era deserta. Tutte le strutture, gli ombrelloni o quello che ne restava, erano accatastati a centinaia di metri dal mare. Tutto era stato travolto e distrutto da tre serie di onde alte 10 metri che ci dissero erano piombate con una potenza mai vista su tutta la costa sud-ovest della Thailandia quella mattina, provocando distruzione e morte. Noi eravamo rimasti al sicuro a studiare in hotel. La posizione, protetta da un alto promontorio, aveva impedito al mare di raggiungersi. Nel mezzo di quel groviglio di legni, assi e macerie, qualcuno aveva raccolto e sistemato su di un improvvisato altarino una piccola statua del Buddha, ponendo un fiore e un frutto in offerta. La statuetta però non era la classica immagine hieratica rassicurante del Buddha e nemmeno quella a quattrofacce che guarda in tutte le direzioni del mondo. Era un Buddha disteso, quello del martedì, il giorno in cui ero nato. Spontaneamente salutai il Buddha con i tre inchini di rito. Un cappannello di persone poco distante, a metà spiaggia, attirò la mia attenzione. Un poliziotto era di guardia ad una cassaforte, una tonnellata di ferro strappata da chissà dove ed è posta lì come una balena spiaggiata. Un turista, mimando l'apertura con la chiave della sua camera, provocò l'ilarità dei convenuti, ma non del poliziotto. Lo sciabordio calmo delle onde sulla battisa, con il sole che stava tramontando. E la spiaggia, liberata da tutte le strutture balneari, era quasi bella e con egoismo assaporavo quel momento, non riuscendo a immaginare cosa ci fosse potuto succedere se fossimo stati lì quella mattina. Ritornando all'hotel attraversammo le dune di sabbia, che nascondevano il villaggio turistico nel quale avevamo chiesto alloggio giorni prima. La distruzione era totale, i bungalow scoperchiati, alla sala ristorante della struttura principale mancava la parete frontale, i tavoli e tutto l'arredamento era distrutto e ammucchiato in fondo al locale. I negozietti attorno alla struttura e anche quelli sulla strada erano feriti. Gli ombrelloni trasportati con violenza dal mare, come frecce, si erano conficcati nelle vetrine e nei muri. Sapemmo in seguito che in tutta la zona c'erano state delle vittime. Nel parcheggio del nostro resort, gruppi di turisti, richiamati dalle loro agenzie di viaggio, si apprestavano a salire su grandi pullman per lasciare la zona e probabilmente rientrare nel loro paese. Noi avevamo organizzato il viaggio in modo indipendente. Nessuno ci aveva chiesto di lasciare la Thailandia. Ora avevamo tutto l'hotel a disposizione. Il giorno dopo voglio visitare quel tratto di costa colpita dallo tsunami. Con l'aiuto di Fabio ingaggiai un tailandese che con il suo mezzo, un coloradissimo e rumoroso tuk-tuk, valicando la collinetta che divideva le coste, si portò fino all'inizio della bellissima e lunga mezzaluna di sabbia di Caron Beach. La sabbia, portata dal mare, distante parecchie centinaia di metri, aveva sepolto auto ed invasionegozi ai piedi della collina. Gli hotel di lusso, dai nomi prestigiosi, costruiti a mezza costa ed inaccessibili, non dal punto di vista geografico ma economico, si erano salvati. L'hotel in on the beach, no, non aveva avuto scampo. La distruzione era totale, tutto il piano terra sventrato ed un'auto, un grosso pick-up, era conficcato come un dardo in una stanza a bordo piscina. Ritornando a Cata Beach sul tuk-tuk, ripensavo a qualche giorno prima, quando eravamo lì a chiedere due stanze, ad implorare per una sistemazione e anche di fortuna. E se fossimo stati in spiaggia? E se Franca con Elisa si fossero incamminate come ogni mattina per la rituale passeggiata sulla battigia? E se ci fossimo imbarcati per una gita alle isole? Invece eravamo lì, indenni, salvati da una lezione di letteratura inglese e da una serie di coincidenze che il nostro karma aveva reso qualche giorno prima sfavorevoli, ma che erano state la nostra fortuna. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!